Grazie Presidente. Colleghi, mio Dio, aiutami a sopravvivere a questo amore mortale. Si intitola così il celebre murales che campeggiava sul muro di Berlino. Tutti sicuramente quest'Aula sapranno molto bene di che cosa sto parlando. Mi riferisco in particolar modo a quella famosa immagine che ritraeva il bacio, peraltro realmente accaduto, tra i due più famosi leader comunisti protagonisti di quell'epoca. Ecco, quell'immagine è diventata il simbolo della Guerra Fredda e mi spaventa l'idea che tra venti o trent'anni il simbolo di questa epocale riforma costituzionale sarà rappresentata dalla foto dell'abbraccio tra il Ministro Boschi e il Senatore di Forza Italia Paolo Romani, nell'Aula di Palazzo Madama, immediatamente dopo l'approvazione del DDL costituzionale. Mi preoccupa perché questo DDL è passato con 183 voti a favore, dopo un dibattito molto lungo che ha visto l'opposizione in netta rivolta contro la maggioranza e un Governo e anche una maggioranza totalmente sordi di fronte ai rilievi sollevati dalle opposizioni. 183 voti favorevoli su 315. Una maggioranza che rasenta sostanzialmente quello che era il quorum che doveva raggiungere, ma che dovrebbe essere invece una riforma volta ad ottenere la più ampia condivisione possibile non solo del Parlamento, ma soprattutto di tutto il Paese. Questa riforma a mio parere nasce sotto una cattiva stella, nasce da un accordo extra parlamentare cui hanno fatto seguito tra gli altri accordi questo tipo di disegno di legge e per chi ci ascolta da fuori avete capito benissimo, si tratta di un disegno di legge, cioè il Governo si è arrogato la facoltà di stravolgere la Carta Costituzionale quando la competenza in una materia così delicata spetterebbe al Parlamento finché perlomeno ancora resisterà. Ed è iniziata sotto il segno della minima condivisione ed è giunto finora sotto il segno della minima condivisione possibile. La strada si è avviata il 15 aprile scorso in Commissione al Senato, è finita dopo 45 sedute di Commissione e 26 d'Aula. Ha superato tutte le difficoltà legittime poste dalle opposizioni grazie alla forzatura regolamentari poste in atto dal Presidente Grasso. E nonostante tutti gli sforzi dell'opposizione, anche molto costruttivi, il testo è arrivato alla Camera con gli stessi profili critici e del tutto inaccettabili che erano presenti nel momento in cui è stato emanato dal Governo. Perché ha gli stessi approcci critici inaccettabili? Perché si potrebbe esprimere un parere favorevole se si avesse un'ottica presidenzialistica oppure un approccio orientato a uno strapotere del Governo, nel mio caso, per cui ho dei seri problemi a ritenere favorevole questo tipo di riforma, soprattutto nei confronti dello strapotere del Governo, perché in Italia l'esecutivo non è eletto direttamente dal popolo, né tantomeno legittimato dalla votazione popolare. Quindi una riforma di questo genere non è coerente con l'assetto istituzionale che i padri costituenti ci avevano regalato. Ebbene, questo testo così corposo, si tratta di circa 40 articoli su 139, è giunto alla Camera. In Commissione Affari Costituzionali si sono tenute circa 25 sedute e in Aula il dibattito invece rischia di rimanere ancora più strozzato di quanto non lo sia stato in Commissione. La decisione di calendarizzarlo il 16 di dicembre è stata presa dalla Presidente Boldrini e di fatto ha compromesso la discussione in Commissione perché ha accorciato i tempi e ha spalancato le porte al contingentamento. Che orrore, Presidente, il contingentamento sulle riforme costituzionali. Oggi in conferenza di capogruppo si sono riaperti i termini per le proposte emendative, come richiesto dalle opposizioni, fermo restando però il contingentamento dei tempi, condizio sine qua non. Io spero veramente che i padri costituenti non abbiano assistito dall'aldilà a questa scena perché era veramente pietosa. Tornando al merito del DDL comunque. Questo testo ha in sé la modifica del titolo quinto, la modifica delle procedure legislative, dell'assetto istituzionale con una riforma radicale del Senato e del bicameralismo e un forte sbilanciamento della carta verso un sistema politico-istituzionale che ha ben poco a che vedere con quello originario. Sarebbe stato opportuno e rispettoso dei principi democratici e soprattutto del necessario e dovuto coinvolgimento dei cittadini inaugurare una fase costituente. 40 articoli su 139 utilizzando la procedura del 138 è qualcosa di quantomeno inopportuno soprattutto se si considera la razio della norma. Si sarebbe potuto fare un lavoro più dignitoso in questo senso. Il percorso, come dicevo prima, è stato accidentato ma in realtà accidentato è un eufemismo. È stato un percorso sbilenco sia nella forma che nei contenuti e completamente distorto nei pesi e nei contrapesi politici che sottendono a questo Governo e ai giochi che lo caratterizzano. Questo Governo di fatto con questa riforma ha condotto una vera e propria crociata contro la Carta Costituzionale e contro la democrazia. Quanto meno la democrazia di carattere occidentale, quella dell'impianto liberale rappresentativo e partecipativo, quella che noi vorremmo ampliare il più possibile coinvolgendo la cittadinanza, non tagliandola fuori ancora più di quanto non sia già tagliata fuori. Un esempio di che cosa non funzioni per nulla in questa riforma è il procedimento legislativo che viene completamente stravolto a favore dell'esecutivo, ossia del Governo. Perché intendo a puntare l'attenzione su questo fatto? Perché si è moltissimo parlato di tanti punti, soprattutto sulle testate giornalistiche o nelle trasmissioni televisive, su alcuni aspetti di questa modifica, che riguardavano in particolar modo la composizione del Senato, oppure ho sentito anche accesi i dibattiti oggi in aula sulla dichiarazione dello Stato di guerra conferita solo alla Camera con una maggioranza semplice. Questi sì sono punti critici, ma il vero nodo sta proprio nello sbilanciamento dei poteri in favore del Governo. Perché il bello viene proprio lì, dal combinato disposto della legge elettorale, l'Italicum che adesso sono in discussione al Senato, è questa riforma. Disposizioni costituzionali di questo genere, un impianto di questo genere, abbinato a un sistema elettorale che quantomeno fino ad oggi, quello in discussione fino ad oggi, è ancora maggioritario, di fatto creerebbe una dittatura del Governo e della sua fida maggioranza. Tralasciando poi l'opportunità di iniziare una legge elettorale da un ramo del Parlamento e una riforma costituzionale dall'altro, quando sono poi strettamente connesse, legate, senza valutare il rischio che se si sceglierà un sistema proporzionale da un lato, cambieranno gli obiettivi di questa riforma, oppure se si deciderà in questa sede di mantenere il bicameralismo perfetto, la legge elettorale che di là prevede l'elezione solo per la Camera sarà un po' poco utilizzabile. Quindi o lo si fa col chiaro intento di fregarsi di che cosa si dice nelle Aule parlamentari, altrimenti è un piano quanto meno goffo. Torniamo agli elementi di rimenti e assai discutibili, molto meno noti ma molto molto più discutibili. L'articolo 10 del provvedimento che modifica l'articolo 70 della Costituzione, una modifica radicale che muta totalmente l'ordinamento parlamentare e che per questa ragione ha ricevuto moltissime critiche dagli auditi in Commissione, che avevano colto l'occasione, tra l'altro, per definire la compressione del ruolo del Parlamento nella formazione delle leggi, un mero strumento populistico oltre che illogico e contraddittorio. Un procedimento legislativo che, secondo voi membri del Governo, viene semplificato aumentando la tipologia di procedure fino a quattro, ma eliminando la doppia lettura e limitando il potere del Senato con votazione a maggioranza estese. Il problema, qui ce lo siamo detti dal primo giorno in Commissione, non è la produttività del Parlamento, il problema è dell'ingerenza del Governo nella funzione del Parlamento e l'eccessiva produttività di quest'ultimo che di fatto ingolfa totalmente i lavori parlamentari. Altra insidia che non si può per nulla trascurare si trova nell'articolo 12 del DDL, che modifica il 72 della Costituzione, laddove si è cercato di imporre a questa Camera, che sarà l'ultima che rimarrà, un voto bloccato, cioè un termine entro il quale si dovranno esaminare e poi votare i disegni di legge del Governo. Altro tassello non da poco è l'assoluta incongruenza di questo testo. È stato sottolineato da auditi che non erano assolutamente del Movimento 5 Stelle, ma anzi costituzionalisti di livello, che non sono stati per nulla ascoltati. Però io ricordo che a ottobre il Ministro Boschi disse che si sarebbero tenute in conto le opinioni degli auditi durante i lavori, saremmo collaborativi e allora la domanda che sorge spontanea è a quali opinioni si riferiva il Ministro Boschi? Sicuramente non a quelle di tutti gli auditi che sono stati in affari costituzionali, perché hanno sollevato dei dubbi sull'assetto monocamerale, così come l'avete costruito voi, sullo sbilanciamento pro-governativo, così come l'avete stabilito voi, e sulla compressione dei lavori parlamentari e così via, così come l'avete pensato voi. No, quelle opinioni sono accadute nel vuoto, probabilmente perché opinioni scomode. D'altronde io ricordo anche qualche mese fa che il Ministro Boschi lanciò su Twitter una splendida idea che era la seguente. La riforma sarà comunque sottoposta al referendum confermativo, chiaro, perché al Senato era difficile riuscire a ottenere la maggioranza dei due terzi e quindi si è lanciata in questa esternazione. Io sono assolutamente, tutti noi assolutamente favorevoli a consultare i cittadini, ma trattarle con quella superficialità, in quella maniera, significa svuotare ancora di più le competenze del Parlamento su questo tipo di riforma, come dire, indipendentemente dalla maggioranza che mi date, tanto poi io vado a chiedere alla gente fuori, e il punto è anche l'approccio nei confronti della Carta Costituzionale di tutto il resto del Paese, perché se le si tratta quella stregua significa che si dà anche degli sciocchi ai cittadini perché si dà per scontato un plebiscito. E questa non è democrazia diretta, questo non è coinvolgimento dei cittadini, questo è un plebiscito veicolato. Io vi sembrerò allarmista, ma il fatto è che per me la Costituzione è alla base della vita di ogni cittadino, anche se molto spesso da fuori è percepita assai distante. La base dei diritti che permette la vita quotidiana, così come la democrazia e la libertà, quella che conosciamo oggi, è garantita da questa Carta Costituzionale, per cui io sono notevolmente spaventata da questa riforma pastrocchiata. Ne verrà fuori un Senato non rappresentativo con dei senatori part-time, che avranno anche altre funzioni. Con un vincolo nelle decisioni e un peso legislativo differente, è un governo abnorme, che potrà fare e disfare in base alle proprie maggioranze. Questo poi dipenderà dalla capacità del Governo di far passare la legge elettorale che più gli farà comodo. Questo DDL, come hanno già detto in questi giorni i miei colleghi, ma anche i colleghi di altri partiti, presenta una serie di limiti ai principi democratici, che non possono essere cancellati con un colpo di spugna, ottenendo il favore di un voto plebiscitario così. Se il Governo avesse avuto davvero l'intenzione di far partecipare i cittadini attivamente, allora li avrebbe informati prima, avrebbe veramente reso questo Parlamento una casa di vetro, lavoro, si sarebbe aperta la discussione in tutto il Paese, li si sarebbe informati, consultati, ma fatta così, lo dicevo prima, è un plebiscito ed una presa in giro. Per me la Carta Costituzionale è il riassunto della storia del nostro Paese, la base della democrazia e della libertà e non è affatto un pezzo di carta su cui si è posata troppo polvere che deve essere modificato, stravolto a piacimento dalla maggioranza di turno per poter fare ciò che si vuole del nostro Paese. Peraltro, questo è un dettaglio non da poco, anche se poco citato in quest'Aula, questo Parlamento è un Parlamento che è stato eletto con una legge elettorale dichiarata incostituzionale, per cui ci si può appigliare all'infinito sia da un lato che dall'altro e dire che siamo politicamente legittimati, sì non lo siamo, non lo siamo, sicuramente su questo argomento avreste, voi Governo, come la maggioranza dovuto fare un passo indietro, perché a fronte di una composizione di un Parlamento di fatto drogato da una legge elettorale con un premio che è distorsivo, non si sarebbe dovuto poter utilizzare quella maggioranza per approvare una riforma a proprio comodo, assolutamente non si sarebbe dovuto fare. Forse io sarò conservatrice, può essere, può essere. Stamattina il mio collega Colletti ha citato uno dei nostri padri costituenti, nonostante siamo molto giovani siamo molto attaccati alle radici del nostro Paese. Lui ha citato un discorso, io invece ne vorrei citare un altro, che è quello che ha fatto agli studenti milanesi nel 1955. È stato un discorso interessante, ve ne leggo giusto una parte per farvi avere qualche spunto di riflessione. In questa Costituzione c'è dentro tutta la storia del nostro Paese, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure e le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli e dietro questi articoli si sentono delle voci lontane. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale o l'articolo 11, questo è Mazzini. O quando io leggo l'articolo 8 questo è Cavour. Leggo l'articolo 5 è Cattaneo, il 52 è Garibaldi. L'articolo 27 è Beccaria. Ecco, quando dovremo andare a raccontare ai giovani di domani questa riforma, che cosa dovremmo dirgli? Quando leggeranno il nuovo articolo 55 dovremmo dirgli io ci vedo dietro Licegelli, non penso, o dietro il nuovo articolo 70 io ci vedo l'accordo Berlusconi-Renzi, dietro il 72 Boschi-Romani, dietro il 58 non modificato, perché quegli articoli badiamo bene a toccarli anche se se ne toccano 40, ci dovrei vedere tutti i casi di non concessione agli arresti che ci sono stati in quest'Aula o quelli concessi perché c'era l'attenzione mediatica addosso, sulla non modifica dell'articolo 66 idem, il conflitto di interessi. Sull'articolo 77 dovremmo andare a dire che ci vediamo dietro il Presidente Napolitano. Tornando a Calamandrei, e poi chiudo Presidente, quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa carta costituzionale, quella che state stracciando, non quella che volete modificare. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. dietro gli articoli di questa nuova carta costituzionale, cosa c'è? C'è propaganda? Opportunismo politico? Populismo? Ci sono i selfie del Presidente? Ci sono gli hashtag? Presidente, concludo veramente. Una persona che stimo molto mi ha insegnato che le Costituzioni sono fatte in tempi di saggezza per durare in tempi di crisi. In questo momento, secondo voi l'Italia che tipo di periodo sta affrontando? A voi la risposta.